Il Consiglio regionale si è riunito in questi giorni per approvare una nuova legge sul bollo auto in particolare le nuove norme eliminano le agevolazioni per il noleggio senza conducente vedremo tutti i dettagli segnaliamo intanto che è stata una discussione molto vivace nella quale la maggioranza si è divisa si torna a parlare di autonomia differenziata per la nostra regione lo fa il governo lo fa anche il presidente della giunta eugenio giani che trova sponde utili soprattutto nella lega nel bilancio dei primi due anni di attività del consiglio del suo ufficio di presidenza il fiore all'occhiello è stato il bando rigenerazione toscana che ha stanziato due milioni per quasi 200 comuni sta per concludersi anche il nuovo bando del premio innovazione che può dare slancio sostegno e visibilità a start up e imprese innovative in questa ultima settimana si sono unite quasi tutte le commissioni per discutere e preparare gli atti che poi andranno all'esame dell'intero consiglio faremo una sintesi naturalmente evidenziando le cose più rilevanti una su tutte in toscana i cittadini avranno lo psicologo di base l'autunno è la stagione della natura e del buon cibo molte delle iniziative toscane trovano la loro vetrina qui a palazzo del pegaso e assumono così una connotazione veramente regionale cominciamo subito però dalle novità che arrivano da roma la settimana scorsa in regionando avevamo ospitato i capi gruppo in consiglio regionale avevamo chiesto loro di dirci le aspettative che hanno da questo nuovo governo allora però c'erano solo i ministri ora si sono insediati anche i vice ministri e i sottosegretari sono tra i toscani il pisano alberto barachini che ha la delega molto importante all'editoria il pistoiese patrizio la pietra all'agricoltura e il pratese giorgio silli agli esteri tra le cose che più attendono i toscani ci sono diverse infrastrutture dalla tirrenica all'alta velocità ferroviaria da risposte certe sugli aeroporti di pisa e firenza la sistemazione del territorio per prevenire rischi idrogeologici c'è una spinta ulteriore che si chiede al turismo e alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico ne parleremo certo nelle prossime settimane una seduta intera sulla nuova legge per il bollo auto che di fatto elimina le agevolazioni del 10% ai noleggi senza conducente la norma era stata introdotta nel 2013 per i noleggi a lungo termine oltre un anno la misura vale 9,2 milioni anche se ci sono due ulteriori modifiche che richiedono risorse circa 200 mila euro l'esenzione per le automediche al pari dei veicoli adibiti ambulanze e trasporto e la sospensione del pagamento per i veicoli consegnati per la rivendita venduti o radiati per rendere operative le novità già nel bollo 2023 era necessario approvare la legge entro il 10 novembre questo spiega l'urgenza con la quale è stata discussa e poi naturalmente anche votata nel 2013 erano state introdotte una serie di agevolazioni di riduzioni importanti per i proprietari dei veicoli a noleggio senza conducente queste agevolazioni vengono quindi eliminate con la legge che è stata oggi licenziata dal consiglio regionale anche perché nel frattempo si era verificato un importante cambiamento ovvero quello per il quale l'imposta non deve più essere corrisposta dal proprietario del veicolo ma direttamente dall'utilizzatore pertanto si è stabilito che tutte le volte che vi sia un noleggio a lungo termine senza conducente e che l'utilizzatore abbia la residenza o la sede nel territorio della Toscana venga corrisposto analogamente a tutti gli altri proprietari di veicoli il bollo direttamente alla regione toscana fin qui la norma approvata e le sue implicazioni è però soprattutto sulla destinazione di quei 9 milioni che si discute si votano cinque ordini del giorno cinque documenti presentati da maggioranza e opposizioni si assiste ad un'altra frattura nella maggioranza ma è tuttavia ha votato contro questa legge perché riteniamo inopportuna un aumento delle tasse che non venga poi correlato a una attribuzione di queste risorse che sono 9 milioni di euro a favore poi delle imprese dei commercianti degli artigiani di colori che più di altri stanno soffrendo e quindi noi avevamo detto fin della settimana scorso che eravamo disponibili ad aumentare questa tassazione solamente a una condizione quella condizione che queste risorse siccome verranno pagate essenzialmente da libri professionisti da artigiani da imprese che molte volte hanno auto a noleggio potessero poi essere restituite nei confronti delle imprese dei commercianti degli artigiani che più di altri stanno soffrendo rispetto al caro bollette al caro energia riteniamo che questo sia una cosa ingiusta non servono questi risorse per pagare il buco della sanità se questo c'è deve essere spiegato se esiste o se non esiste e quindi su questo ci chiediamo chiarezza ovviamente la maggioranza di governo regione toscana e non siamo stati disponibili a cedere sui nostri valori sui nostri principi insomma al momento del voto italia viva sta con le opposizioni e la legge riceve 22 sì quelli del pd 14 no quali sono le principali contestazioni del centro destra critichiamo e fortemente il metodo dubitiamo seriamente del carattere di urgenza di questo consiglio perché tutti sanno che entro il 10 di novembre eventuali modifiche sul bollo auto devono essere adottate dalle regioni quindi c'era tutto il tempo per intervenire e questo non è stato fatto siamo arrivati in fretta e furia ad approvare un provvedimento che non è chiaro neppure per quanto riguarda le fatti specie di riferimento noi abbiamo presentato un emendamento per dire se si tratta soltanto dei veicoli a noleggio a lungo termine così come fa riferimento la normativa nazionale o anche a quelli a breve c'è molta confusione c'è anche divisione all'interno della maggioranza abbiamo visto ecco italia viva che non è stata a votare questo provvedimento e consideriamo invece che la lega è riuscita a far approvare un proprio ordine del giorno per il sostegno alle famiglie con minore a carico con gravi disabilità dal primo di gennaio del 2023 professionisti partite iva imprenditori c'è tutti coloro che utilizzano lo strumento del noleggio a lungo termine per la propria auto dovranno pagare il bollo auto questo è da una parte l'ennesima vessazione per categorie negli ultimi anni hanno già pagato abbastanza alla situazione di crisi nazionale e internazionale dall'altra parte questo provvedimento porterà 9 milioni di euro in più nelle casse della sanità toscana perché così ha deciso la maggioranza noi abbiamo chiesto una cosa al governatore giani non ho ancora avuto risposta quindi la continuiamo a chiedere come mai questi 9 milioni per la sanità toscana servono urgentemente nel 2023 cosa è successo nel 2022 di straordinario perché la legge che permetteva alle regioni di incassare questi 9 milioni è la legge di stabilità del governo del 2019 quindi la regione toscana avrebbe potuto incassare questi 9 milioni nel 2020 nel 2021 nel 2022 la regione toscana ha rinunciato a incassare 27 milioni di euro in tre anni per incassarne 9 il prossimo anno quindi o quest'anno è successo un disastro oppure giani ha bruciato 27 milioni di euro per la sanità toscana nel merito interviene anche la capogruppo dei cinque stelle e anche lei vota contro questo provvedimento la giunta regionale evidentemente ha bisogno di andare a cercare delle risorse finanziarie perché è l'unico modo con cui si giustifica la fretta e il modo con cui in questo momento sono andati a mettere le mani nelle tasche di partite ivo piccolissime imprese fatte anche da una sola persona che sono quelli del noleggio auto a lungo termine ad esempio per ricavare 9 milioni di euro che mi viene da pensare sono quasi la stessa cifra che un anno fa era stata data a toscana aeroporti come ristoro e sarò poi sapere che erano stati divisi gli utili da quel punto di vista un'altra cosa molto curiosa che vengono chiesti questi 9 milioni in più dalle casse che vengono comunque sono mani in tasca che vengono messe a una categoria che lavora e che produce ma non si sa come vengono finalizzati e soprattutto viene da pensare se la regione non abbia trovato altro su cui risparmiare o su cui riuscire a incassare maggiormente prima del voto sulla legge lo dicevamo vengono approvati alcuni emendamenti proposti dalla giunta gli ordini del giorno che passano sono quelli presentati da galli lega per un contributo di 200 euro alle famiglie con disabili gravi e isee sotto i 30 mila euro da galletti 5 stelle ancora sulla disabilità e sulla riduzione più generale della tassa di circolazione da ceccarelli pd per dare risorse che si ottengono a favore della sanità soprattutto quella territoriale e da tozzi del gruppo misto sono molto soddisfatta perché di fronte a quella che sembrava essere quasi una destinazione come dire definita quasi inaspettatamente è stato approvato è passato diciamo al voto dell'aula un nostro ordine del giorno che su quei 9 milioni finalmente cercava almeno di dare una risposta alle imprese ovvero prevedendo che queste risorse andassero ad essere destinate per quanto riguarda diciamo interventi strutturali per far fronte a carobollette o meglio all'efficientamento energetico degli edifici produttivi a noi sembra che oggi siamo in una situazione in cui il sostegno alle attività produttive quindi di conseguenza l'occupazione debba essere una priorità abbiamo come dire scansato che queste risorse fossero destinate poi integralmente invece alla sanità che già copre l'80 per cento del bilancio regionale e noi non possiamo permetterci di mettere sulla spesa corrente altre risorse senza programmazione sentiamo allora alla fine il capogruppo del partito democratico sulla legge in sé che il suo gruppo ha votato da solo e soprattutto sulla destinazione delle avanze per noi è importante tenere ben presente avere priorità per quanto riguarda l'agenda sanitaria e per quanto riguarda l'agenda sociale della regione le famiglie stanno soffrendo le persone sono in difficoltà la sanità toscana è la più pubblica che abbiamo in questo paese siccome presumiamo che il governo non allocherà maggiori risorse tra l'altro per quanto riguarda la sanità almeno questo dalle prime dichiarazioni che sono state fatte noi pensiamo che mettere risorse per quanto riguarda il rafforzamento della sanità territoriale dei servizi rivolte alle persone più fragili per quanto riguarda il rafforzamento dell'agenda sociale sia dare riscontro a quelle che sono le maggiori esigenze e le maggiori emergenze che le fasce più deboli della popolazione stanno attraversando a proposito di sanità la commissione si è riunita e ha deciso di votare tecnicamente si dice licenziare l'istituzione dello psicologo di base l'obiettivo dice il presidente sostegni è quello di fornire un servizio importante in più ai cittadini toscani un servizio che vorremmo diventasse strutturale e integrato in tutto il servizio sanitario la stessa commissione ha anche ascoltato i vertici dell'azienda sanitaria toscana sud est che pensate a una superficie territoriale pari a metà della regione di lievo poi la norma che unifica tutta la modulistica per enti locali cittadini e imprese per attività produttive ed edilizia è una procedura nazionale già approvata con accordo in conferenza unificata obiettivo si dice nella prima commissione che l'ha esaminata e l'ha licenziata semplificare standardizzare uniformare la commissione sviluppo economico ha esaminato le modalità per la promozione delle comunità energetiche rinnovabili valida risposta alla crisi che stiamo attraversando si tratta di strumenti innovativi in pratica associazioni tra cittadini attività commerciali pubbliche amministrazioni piccole e medie imprese che decidono di unire le forze per dotarsi di uno o più impianti condivisi per produrre e autoconsumare energia da fonti rinnovabili su questo dopo il passaggio in aula la regione avrà la propria legge nella quarta commissione infine si è votato il bilancio del consorzio lama e se ne è modificato anche lo statuto lo approfondiremo tra sette giorni torna in primo piano la questione dell'autonomia differenziata che la toscana vorrebbe soprattutto per i beni culturali e per l'energia se ne era fatto interprete lo stesso presidente gianni invitando a giugno a firenze l'allora ministro gelmini nei prossimi giorni si verrà con il nuovo ministro calderoli il tema comunque ce lo siamo già preannunciati da un punto di vista telefonico se sull'autonomia differenziata la toscana è d'accordo noi siamo d'accordo in una autonomia differenziata che più che andare a vedere gli aspetti diciamo economici di tornaconto delle regioni deve affrontare la possibilità di gestire meglio alcuni settori che hanno una specificità regione per regione beni culturali dove noi abbiamo il 20 per cento e beni culturali in italia anzi qualcosa di più è giusto che prevedano un coinvolgimento della regione che poi va a utilità perché noi non vogliamo lasciare chiuso nessun museo vogliamo fare un'opera di promozione anche del museo del più piccolo paese quindi è un'utilità per tutti la geotermia che è solo in toscana è giusto che sia la regione a seguire naturalmente in concertazione con il ministero ma quello che è un settore così vitale su cui attraverso una gestione diretta noi potremmo incentivare ancora di più la creazione di fonti rinnovabili i consiglieri della lega dall'opposizione spingono in questa direzione e il consigliere casucci in particolare lo ripete ogni volta personalmente ritengo che l'autonomia differenziata sia una urgenza è un qualcosa che non possa essere più differito perché abbiamo bisogno di risorse crediamo che si possa razionalizzare la spesa pubblica facendo svolgere alle regioni funzioni che fino adesso sono svolte dallo Stato non togliamo nulla a nessuno noi chiediamo semplicemente che la stessa funzione per quanto riguarda solo per fare un esempio la gestione di musei possa essere portata avanti non dallo Stato ma dalla regione pronti con i sapori più autentici dei nostri territori novembre è il mese del tartufo il 12 novembre via la mostra mercato di San Mignato e a quella del tartufo delle crete a San Giovanni dal 12 novembre San Mignato si veste nuovamente a festa per la 51esima edizione una 51esima edizione che è sempre estremamente attesa tre fine settimana tartufo speriamo che si trovi dell'altro le piogge di settembre di fine settembre fanno ben sperare speriamo che il clima sia buono come questo questo sì perché una delle variabili principali sulle presenze dentro la mostra è il bel tempo e ora non si può dire che non sia bel tempo partiamo alla grande è un evento che è molto atteso diciamo dagli amanti culinari principalmente del nostro territorio metteremo in bella vista diciamo tutti i preziosi prodotti che ci sono nel nostro territorio come sapete noi abbiamo questo riconoscimento del distretto rurale di montalcino e saranno diciamo i principi tutti i prodotti del territorio e poi c'è la cultura siamo a foiano della chiana dove per due settimane c'è la terza edizione del book festival si è una scommessa vinta nelle passate edizioni siamo solamente tra virgoletta la terza edizione più dei contenuti estivi che abbiamo fatto visto che andava molto bene questa kermess e quindi siamo siamo felici perché c'è stato tanto ritorno di pubblico di gente anche soprattutto fuori da foiano che era un po anche il nostro obiettivo portare gente nel nostro paese attraverso la cultura questo è un festival culturale che è uscito dalla provincia e di questo siamo molto soddisfatti gli autori che vengono sono di levatura molto alta e anche questo ci fa molto piacere abbiamo un rapporto ormai consolidato con le maggiori case editrici italiane e quindi speriamo e siamo convinti che anche questa terza edizione sia sia un successo è cultura ma anche insieme impegno civico la diffusione dei contenuti di questo libro bambini legate di marina pratici jacqueline monica magi e anna massi il libro tratta il doloroso tema della violenza di genere dal punto di vista delle bambine abusate nel mondo ecco la presidente della commissione cultura del consiglio regionale questo è un libro importante perché nel gran parlare che si fa molto parlare spesso poco agire sul tema della violenza contro le donne e sulla segregazione di questa maggioranza della popolazione perché ricordiamoci stiamo parlando di una violenza esercitata su una popolazione che è la maggioranza degli esseri degli esseri umani noi ci troviamo con spesso a non considerare gli effetti riflessi e gli effetti a lungo termine dell'abuso e della violenza sono condizioni che limitano l'espressione della personalità che privano la società tutta di energie che queste persone ferite potrebbero utilmente riversare a beneficio di tutti vi ricordate la conferenza di bilancio dei primi due anni di attività dell'ufficio di presidenza e dell'intero consiglio regionale e ascoltiamo per un attimo il presidente mazzeo lavoro importante le presenze dimostrano anche il lavoro dei colleghi consiglieri quasi il 96 per cento di presenze da remoto o in presenza che danno il segno come dire di una grande attenzione al ruolo che ciascuno di noi è chiamato a svolgere noi in questi due anni abbiamo deciso di investire molto sui giovani quelli che hanno sofferto di più durante questa fase di pandemia penso al bando sulla rigenerazione urbana hanno partecipato quasi il 70 per cento dei comuni della toscana ognuno con un progetto rivolto alle ragazze e ragazzi motivo d'orgoglio suo e dell'intero ufficio è stato certo il bando rigenerazione toscana l'abbiamo sentito lanciato il 20 aprile con risorse del consiglio derivanti dall'avanzo di bilancio inizialmente un milione e 750 mila euro in poco più di un mese dopo l'incontro con gli amministratori under 35 e i ragazzi di giovani si ha sostenuto progetti in 193 comuni su quattro linee valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano con la street art promozione e realizzazione di spettacoli con protagonisti i giovani under 35 progetti di aggregazione giovanile anche in autogestione e valorizzazione di aree a verde pubblico e di parchi giochi inclusivi per garantire la fruibilità degli spazi da parte dei bambini con disabilità soprattutto di loro ricordiamo anche che sta per scadere il 7 novembre il nuovo bando del premio innovazione toscana e che le categorie sono quattro start up innovative ricerca sviluppo innovazione digitale brevetti e transizione ecologica energetica prima di salutarvi una nota dell'associazione dei consiglieri onorari della toscana il nuovo presidente roberto benedetti sarà affiancato dai vice rosanna pugnalini e riccardo bicchi dal segretario organizzativo gialluca parrini e dal tesoriere paolo giannarelli buon lavoro a tutti loro noi ci rivediamo venerdì prossimo 11 novembre sempre dopo il tg della sera alle 21 e 15 su telegram ducato canale 15 in tutta la toscana ragazzi e e a a a Grazie a tutti.